quello che ci occorre per realizzare questa borsa è innanzitutto una rocca di filato io vado ad utilizzare il cordino cotton che è una novità di quest'estate ovvero un cordino che ha una percentuale altissima di cotone più del 70 per cento di cotone è un cordino sempre per borse quindi ha una sua rigidità come potete vedere tiene comunque la forma però è molto più pregiato perché invece di essere poliestero sintetico nylon è con questa altissima percentuale di cotone si lavora benissimo ha un effetto opaco ci sono diversi altri colori sono in rock da 300 grammi per fare questa borsa di questa dimensione me ne è bastata una e ne ho avanzato un pochino questo qua ok questo è l'avanzo vi occorreranno i manici in vera pelle con le viti a registro di attacco è un metro di pasta maneria con le frange in raffia poi qui l'ho chiusa con una bottona calamita quindi con una piccola calamita che si cuce quindi questo è tutto l'occorrente che vi serve lo trovate come sempre sul sito www.merceriamari.it allora per realizzare la nostra borsa dobbiamo realizzare due parti tonde due dischi come ho fatto io e il diametro di quella che ho realizzato io è di 32 centimetri 31 centimetri 32 32 per la reddizione 32 quindi dobbiamo realizzare due dischi io ho già realizzato uno adesso vi faccio vedere come andare a realizzare l'altro ok e poi vedremo come assemblare la nostra borsa la nostra round bag allora per prima cosa ci occorre l'uncinetto io vado a lavorare con il 3 e mezzo sul sull'etichetta di questo cotone trovate indicato di utilizzare il 3 3 e mezzo io utilizzo 3 e mezzo perché lavoro molto stretto quindi per questo tipo di borsa ho scelto di usare il 3 e mezzo proprio per questo motivo se voi lavorate un po più morbido un po più morbido avete una mano un po più morbida potete tranquillamente utilizzare il 3 prendiamo quindi il filato un segno a punto e il nostro uncinetto partiamo facendo io parto facendo un anello magico all'interno del quale vado a lavorare 8 maglie basse in questo modo e andiamo a mettere a fare la ho lavorato le nostre le prime 8 maglie adesso nel prossimo giro andiamo a raddoppiare quindi per ogni maglia sottostante lavoriamo due maglie basse quindi lavoro la prima e ci inserisco il nostro marker rientro nello stesso punto ci lavoro la seconda e poi procedo così a lavorare due maglie basse per ogni punto in modo che al termine del giro avremo 16 maglie ok quindi rientro nello stesso punto lavoro la seconda poi mi sposto nel punto a fianco e lavoro 2 maglie basse all'interno dello stesso punto e così via quindi andiamo avanti in questo modo ed ecco che abbiamo terminato il nostro giro per il giro successivo andiamo a lavorare una maglia bassa nel primo punto in questo modo ci rimettiamo il marker e 2 maglie basse nel punto dopo una e una due nello stesso punto poi faremo di nuovo una maglia bassa nel punto seguente e a seguire di nuovo 2 maglie basse nello stesso punto 1 maglia bassa e di nuovo 2 maglie basse procediamo così fino al termine del giro terminato il giro in quello successivo andiamo a lavorare 2 maglie basse nei primi due punti quindi una ce li metto il marker 2 nel terzo punto lavoriamo 2 maglie basse una rientro nello stesso punto lavoro la seconda e alterniamo questo per tutto il giro quindi di nuovo una maglia bassa un'altra maglia bassa e nel terzo punto raddoppiamo con le due maglie basse nello stesso punto questo è il sistema il classico sistema per ottenere un cerchio rotondo vedete che anche qui se vedete il disco che già realizzato potete vedere esattamente gli spicchi vedete questi spicchi sono formati dagli aumenti fatti sempre nello stesso punto o meglio ogni giro vedete che prima ma facevamo una maglia bassa e poi un aumento adesso facciamo due maglie basse e poi un aumento il prossimo giro faremo tre maglie basse poi un aumento poi faremo quattro maglie basse un aumento 5 maglie basse un aumento 6 maglie basse un aumento 7 maglie basse un aumento 8 maglie basse un aumento 9 maglie basse un aumento e così via fino ad aver ottenuto praticamente la grandezza quasi totale del cerchio perché tranne gli ultimi tre giri che lavoreremo solo più le maglie così come si presentano senza più aumentare andremo avanti con questo sistema ok quindi gli ultimi tre giri sono questi andiamo avanti sempre 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 ad aumentare fino ad arrivare qui agli ultimi tre giri dove non aumenteremo più lavoreremo le maglie così come si presentano quindi questo è il sistema per ottenere un cerchio diciamo perfetto ok quindi adesso andiamo di nuovo avanti una maglia bassa 2 maglie basse nel punto dopo un aumento e procediamo così fino al termine del giro adesso come vi dicevo prima il prossimo giro andremo a lavorare 3 maglie basse quindi 1 2 e 3 e nel quarto punto facciamo l'aumento quindi lavoriamo due maglie basse nello stesso punto poi di nuovo 3 maglie 1 2 e 3 e di nuovo nel quarto punto facciamo un aumento procediamo così per tutto il giro e procediamo con questo sistema quindi aumentando ogni giro una maglia bassa quindi il prossimo giro faremo 4 maglie basse poi un aumento spostiamo l'aumento sempre di 1 poi faremo 5 maglie basse un aumento poi 6 maglie basse un aumento e così via come vi ho già detto quindi procediamo in questo modo fino ad aver praticamente ottenuto quasi l'intera circonferenza perché dobbiamo saltare gli ultimi tre giri quindi dovete praticamente avere un 28 centimetri di circonferenza una volta raggiunti 28 centimetri lavoriamo ancora tre giri senza più aumentare quindi lavorando poi le maglie così come si presentano in questo modo riusciamo ad avere il nostro cerchio ok quindi realizziamo due cerchi e poi vediamo come assemblare la borsa che ci divertiamo allora una volta che abbiamo realizzato i dischi io li ho stirati mi raccomando sembrerà una cosa banale da dire però prima di stirarli metteteci uno straccio un un fazzoletto un qualcosa sopra non stirate direttamente a contatto con il cordino perché è vero che ha un 70 per cento di cotone però c'è il rischio che si possa fondere quindi dopo tutto il lavoro che è stato fatto sarebbe proprio un peccato e dato che so che a qualcuno di voi è già successo mi raccomando prima di stirarlo appoggiateci sempre uno strofinaccio sopra quindi ho stirato i miei dischi e questo risultato finale guardate si sono belli appiattiti combaciano perfettamente l'uno con l'altro adesso dobbiamo andarli ad unire il modello della borsa prevede che la parte superiore venga piegata quindi questo è come sarà come si 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 presenterà finita e noi dovremo andare ad unire tutto da qui a qui quindi questa parte resterà aperta e indicativamente io ho fatto scendere ho piegato diciamo il risvolto nove centimetri così sapete avete anche una linea di massimo un'idea di riferimento qui dove avevo finito di realizzare il cerchio l'ho girato facendo in modo che mi rimanesse esattamente aperto e che mi potessi puntare proprio dove volevo andarmi a chiudere e a riattaccare e quindi adesso andremo ad unire insieme a maglia bassa tutto il restante vedete questo che si presenta in questo modo ho sverciato una parte e l'altra quindi questa sarà la nostra apertura della borsa e questa è la parte che andremo a chiudere quindi mi sono rinfilata qui se avete già staccato il filo basta semplicemente che riprendiate un facciato nuovo capio viene interiato all'interno andiamo a lavorare le maglie basse quindi andiamo a prendere la prima solina dall'altro lato e facciamo una maglia bassa o meglio guardate prendiamo la solina le due soline centrali del punto non prendo l'intero punto così ma prendo le due soline centrali queste due solo queste due e faccio una maglia bassa di nuovo con quelle a bianco e faccio un'altra maglia bassa quindi prendiamo le due soline centrali del punto in questo modo e andiamo a fare le nostre maglie basse unendo tutta la parte del contorno in questo modo vedete che si crea questo piccolo diciamo bordino leggermente in rilievo dove poi andremo ad attaccarci per cucire la nostra frangia quindi è per questo che stiamo facendo questo tipo di attaccatura procediamo così fino a aver unito entrambi i nostri dischi allora guardate una volta che abbiamo terminato di cucire e attaccare due cerchi assieme dobbiamo andarci a mettere la frangia ve ne serve un metro ok questa frangia grafia ne viene occorre un metro e adesso andiamo a cucirla tutto attorno so che qualcuno anche le incolla io no io le cuccio fate a vostra discrezione io vi faccio vedere come cucirla se qualcuno di voi vuole provare a cimentarsi con la colla a caldo piuttosto che la colla da tessuti liberissimi si può comunque anche incollare io però preferisco cucirla secondo me viene un lavoro decisamente migliore quindi adesso vi faccio vedere come cucirla allora innanzitutto prendiamo un filo un ago con il filo io cucio con il gutterman di poliestere sapete che è il mio filo preferito per questi lavori uso sempre quello andiamo a posizionare la frangia esattamente sotto a questo bordino tra virgolette bordino di maglia bassa che abbiamo ottenuto unendo insieme i due cerchi vedete che qui ho questo bordino in rilievo ok quindi posiziona la frangia al di sotto di questo bordino prendo ago e filo e faccio in questo modo mi inserisco nella borsa nella parte lavorata della borsa e poi aggancio la frangia e riesco nella borsa in questo modo mi aggancio nei punti della borsa aggancio di nuovo la mia frangia vedete che punto lago in trasversale e riesco nella borsa e in questo modo vedete che sto fissando la mia frangetta procedo in questo modo ad attaccare la frangia fino dall'altra parte dopodiché taglierò il pezzo rimanente e andrò a cucirlo nel risvolto davanti della borsa in modo che l'effetto finale sia questo ok quindi procediamo in questo modo a cucire la frangia allora guardate ho cucito le frange questo è il risultato sono veramente molto soddisfatta qui sono andata ad attaccare anche una chiusura a calamita e adesso vi faccio vedere come attaccare i manici qui sul retro li ho già attaccati vedete con le due viti a registro a bull sono stupende quindi il manico in vera pelle doppio ho scelto di farlo colore arancione lo stesso identico arancio del della frangia in rafia e adesso vi faccio vedere come posizionare i manici veramente facilissimo allora prendiamo innanzitutto il nostro manico e le bulls le bulls sono fatte in questo modo si svitano così due parti prendiamo la parte diciamo con la vite andiamo inserire nel fuori predisposto del manico in questo modo andiamo a inserire nella nostra parte lavorata sbucchiamo da dietro e si potrebbe a riavvitare la bulls da questa parte dato che il mio cordino è sottile e lo permette io voglio che questa parte stia giù perché quando poi si prende in mano se non si alzerebbe no e quindi faccio uscire la bulls sul retro proprio dietro vedete che poco poco però esce ancora e riusciamo ad avvitarla se avete un cordino più spesso potete tranquillamente farla uscire solo dalla parte risvoltata quindi non sul retro della borsa oppure se non vi piace che nella borsa restino a vista le due viti diciamo potete lasciarle nascoste qua sotto e poi io vi consiglio per non farlo alzare di dare due punti e di fissare cuocendo questa parte alla borsa ok quindi sia che la vite non arrivi completamente dietro sia che non vi piaccia magari avere all'interno queste queste bulls potete tranquillamente solo ve lo faccio vedere da questa parte entrare nella pelle posizionare qui nel rotondo e avvitare la bull qua sotto una volta fatto ciò andrete poi a fermare con un punto la patta alla borsa in modo che non si alzi più io invece lo faccio passare lo faccio uscire da dietro proprio tutto da dietro e questo mi permette di tenerlo fermo e non devo non devo ulteriormente cucirlo ecco questo va a gusti e anche a necessità perché se usate un cordino diverso dal mio che magari è più spesso e non vi consente di fare questo questo passaggio siete obbligati diciamo a cucire il risvolto e a far uscire la bolla solo da un lato comunque questo è il modo con cui si sistemano i manici è semplicissimo veramente non dovete cucirli e tra l'altro esteticamente sono anche molto molto belli secondo me adesso vabbè qui li ho messi scorti adesso lo risvito e lo rimetto guardate questo risultato finale di come stanno i manici messi alla borsa secondo me stanno veramente molto bene sono super facili da mettere perché non bisogna cucirli quindi veramente comodissimi e poi tra l'altro secondo me questa bull li rende anche esteticamente molto gradevoli molto belli da vedere fari finito sembrano rivettati pur non essendolo quindi questo è il risultato finale adesso vi faccio vedere ancora una piccola chicca per le state da poter aggiungere e abbinare la borsa guardate cosa dire di abbinare la nostra borsa un bellissimo cappello in paglia con la nostra frangia a tramezzo in giuta uguale identica a quella utilizzata per la borsa da decorazione io lo trovo veramente veramente stupendo adesso vado a cucire la frangia al cappello ovviamente vale sempre il solito discorso che se volete incollarlo soprattutto sul cappello perché si fa un po' più fatica a cucirlo potrete tranquillamente mettere un filo di colla a caldo qui in mezzo e andarlo ad incollare questo lo lascio sempre decidere a voi e guardate che meraviglia io sono super 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 soddisfatta spero che piaccia anche a voi coloriamo la nostra estate di arancio e sul nostro sito troverete anche quindi il cappello c'è questo modello fatto così e ce n'è un altro attesa più larga un modello chanel stupendo che vi farò vedere che ho intenzione di decorarlo con le mattonelle granny quindi vi farò vedere anche come abbiamo deciso di decorarlo noi quindi fatemi sapere ecco se queste novità per l'estate vi possono piacere interessare se provate a realizzare qualcosa anche voi mi raccomando aspetto le vostre creazioni sul gruppo di facebook con maria e la micro incinettina e soprattutto se decorate i cappelli mi raccomando mi raccomando mandatemi le foto perché sono curiosissima di vedere le vostre creazioni sicuramente stupende un bacione a tutte ciao